Al microfono di News e TV il professore Ciro Daries che ha ricevuto un importante invito da una sede istituzionale prestigiosa, il Senato della Repubblica, per presentare la sua ultima pubblicazione. Professore, vorremmo che lei ce ne desse conto, ci illustrasse i contenuti di questo volume. Il tema è un tema molto attuale che riguarda soprattutto la capacità degli enti locali di poter gestire al meglio la spesa pubblica, quindi di fare cose utili per la collettività. E allora, ecco, queste due anime del libro, performance e controllo di gestione, vogliono essere d'ausilio agli enti pubblici nell'attuazione di una spesa utile per la collettività. Professore, quanto questa forma mentis che ci stava illustrando può, a suo avviso, lei che è originario di Lucera, quanto, ripeto, questa forma mentis nuova per certi versi potrebbe essere applicata ad una realtà come Lucera? Diciamo che il tema è universale, riguarda tutta la pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione centrale, la pubblica amministrazione a livello locale. In modo particolare, laddove ci sono maggiori necessità e difficoltà, l'adozione di questi strumenti si rende ancora più necessario, perché consente loro di capire quali sono i punti di debolezza, di forza, per cercarli di trasformarli in opportunità, in valorizzazioni che possono consentire di fare qualcosa di utile. Nella pubblica amministrazione in generale ci sono sempre molti sprechi, sprechi che possono essere poco, tanti, ma oggi non è più possibile. Professor Darius, si parlava della presentazione ormai prossima, 12 di aprile, al Senato della Repubblica. C'è però l'eventualità, la possibilità che una presentazione o altre presentazioni possano intervenire a Lucera e in altri comuni? Certamente io non escludo altre presentazioni, tra cui anche a Milano e perché no, anche a Lucera mi farebbe molto piacere. Sicuramente non sarò io a richiederlo, laddove la pubblica amministrazione, piuttosto che studiosi, avessero il piacere che presentassi il libro, benvenga, non è tanto il libro in sé, quando quello che almeno contiene i principi che vorrei che si diffondessero, legati alla possibilità che la cosa pubblica venga gestita nel migliore dei modi. Quindi laddove ci sarà la possibilità, benvenga e accetterei volentieri la presentazione del libro anche a Lucera.